Siamo molto contenti di come è andata questa manifestazione oggi, penso che sia stato un bel successo per noi di 4House e anche per Open House Roma. C'è stata molta partecipazione, già da tre giorni il nostro sito per prenotare era sold out. Abbiamo avuto 90 bambini partecipanti divisi in tre grossi gruppi, insomma si sono divertiti e spero che abbiano imparato anche qualche cosa sull'architettura e di come sia importante nella vita. Lo sforzo è stato congiunto di tutte quante noi, dei soci di 4House, dei volontari che ci hanno aiutato, dei bambini che hanno avuto anche un po' di pazienza con noi e dei genitori che finalmente si sono liberati di parco per un'ora e si sono positi a visitare questo bellissimo palazzo d'Apipenia. Alessandra, vuoi dire qual è stato un po' di pazienza? No, mi sono divertita, devo dire, i bambini spero, anzi, abbiamo avuto anche dei commenti favorevoli, ci hanno chiesto un altro ciclo, quindi noi magari lo facciamo.